buongiorno a tutti buona domenica ragazzi come state io bene e infatti mi sintonizzo con voi oggi vi voglio portare nel mio mondo e il mio mondo riguardo ovviamente come vi ho detto ieri i miei pazienti i miei alunni la mia famiglia e vi parlo di un aspetto di un modello che io prendo sempre di riferimento nella vita che il modello biopsicosociale infatti per me il paziente prima che malattia e patologia è una persona e infatti l'uomo è un essere unico e ripetibile per me ogni mio paziente è un essere unico e irripetibile e quindi un paziente vi faccio un esempio viene da me perché ha una epicondilite che magari vedremo il significato nelle prossime video lezioni comunque vi annuncio che è un problema a livello del gomito sì mi interessa che il paziente abbia un epicondilite ma come vive lui questa sua epicondilite e come la vive a livello sociale è questo che mi interessa di più tutti i giorni questo è lo sforzo che un professionista sanitario deve fare non deve solo guardare il paziente per la patologia appunto ma come la vive ed è qua da qua che si inizia con l'anamnesi quindi si capisce come lui sta vivendo questa cosa e da lì si procede con tutta la terapia quindi non si standardizza un trattamento mai bisogna essere sempre partecipi e stare col paziente infatti io ho creato queste video lezioni proprio per stare con voi per tenervi in compagnia qualche minuto e per parlarvi un po di me del mio lavoro e soprattutto per esservi utili perché magari dalle mie lezioni potete imparare qualche nozione che prima non sapevate quindi mi raccomando rimanete a casa ascoltate queste lezioni condividete con chi volete e ci vediamo domani volete sapere siete curiosi dell'argomento di domani ve lo devo annunciare ma sì dai domani vi parlerò di mal di testa visto che purtroppo è un argomento che colpisce gran parte della popolazione quindi ne approfitto ragazzi adesso per augurarvi ancora di nuovo una buona domenica e mi raccomando seguitemi se avete bisogno come state facendo già da ieri in tantissimi seguitemi e scrivetemi a francesco defustofisio chiocciolagmail.com oppure sul cellulare cioè alcuni ce l'hanno già per chi non ce l'ha 339 4295 858 grazie a tutti davvero di cuore e ricordatevi andrà tutto bene perché noi siamo uniti quindi vi abbraccio e vi bacio virtualissimamente ciao a tutti buona domenica